Quest'anno ci siamo trasferiti da Milano a Trieste per il lavoro di papà e siamo venuti ad abitare in questa casa puzzolente che sembra un calzino bucato in attesa di una bacchetta magica Oggi è successa una cosa brutta Ingiunzione di sfratto O vi dite quando andate via, vi mando la polizia a sgomberare, avete capito? Capite l'italiano? Io non me ne vado se non dentro una bar Io ho sentito che c'è casa di cultura che aiuta stranieri Ma voi avete dei bambini? Una figlia, 12 anni Noi abbiamo informato sui nostri diritti, tu non puoi fare niente O andate via, vi mando le ruspe Ma tu che cosa desideri veramente? Mi piacerebbe studiare e avere una migliore amica E' in gamba Camilla E' sveglia Certo, la situazione non l'aiuto Perché non facciamo un corso di danza? Con una maestra così troviamo un sacco d'alliene Certo, la situazione non l'aiuto